Qual è la connessione tra glutine e diabete? Glutine e diabete sono collegati in due modi. Gli individui con diabete di tipo 1 hanno una maggiore probabilità di avere una malattia celiaca, una condizione che rende una persona intollerante al glutine. Per le persone con diabete di tipo 2, limitare il consumo di alimenti contenenti glutine ha mostrato risultati positivi nel miglioramento della salute generale. Ridurre o eliminare il glutine dalla propria dieta dovrebbe essere solo una parte di un piano di trattamento del diabete più ampio che si crea con l'assistenza di un medico. Dall'inizio dell'agricoltura, il glutine ha fatto parte della dieta umana. Il glutine è una proteina presente nei prodotti a base di frumento e grano. Nel pane, è la parte del grano che permette all'impasto di alzarsi e mantenere la sua forma durante la fermentazione. Sebbene il suo ruolo sia stato importante nella storia dell'umanità, i prodotti a base di grano in cui risiede si sono aggiunti all'epidemia di obesità. Prodotti come il pane causano picchi di glucosio nel sangue. I costanti picchi di glucosio nel sangue possono portare al diabete di tipo 2, una condizione in cui il corpo è resistente agli effetti dell'insulina prodotta dal pancreas. Digitare un diabete, d'altra parte, è una malattia autoimmune e non ha nulla a che fare con il consumo di carboidrati o zucchero. Il corpo attacca se stesso e distrugge le cellule produttrici di insulina all'interno del pancreas. La connessione tra glutine e diabete in questo caso è che circa il 10% dei diabetici di tipo un ettero o una malattia celiaca, un'altra malattia autoimmune che li rende intolleranti al glutine. Con la malattia celiaca, si sperimenta una grave malattia gastrointestinale dopo aver mangiato qualsiasi cosa contenesse glutine. A partire dal 2011, la comunità medica sta ancora studiando la relazione tra questi due disordini nella speranza di trovare cure per entrambi. Oltre ad assumere farmaci, uno dei principali trattamenti per il diabete di tipo 2 sta riducendo l'assunzione di zuccheri e carboidrati. Evitare cibi ricchi di glutine può raggiungere questo obiettivo, poiché il glutine esiste negli alimenti con alti livelli di carboidrati. Lo stesso beneficio esiste per i diabetici di tipo 1, anche se non hanno la malattia celiaca. Mantenere una corretta glicemia attraverso le iniezioni di insulina e la dieta garantisce una migliore qualità della vita. È importante ricordare che per la maggior parte dei diabetici, il glutine e il diabete non si escludono a vicenda, mantenere una piccola quantità di glutine nella propria dieta renderà più facile adattarsi ai cambiamenti dietetici necessari per il trattamento del diabete. Se uno ha il diabete, è importante discutere il legame tra glutine e diabete con il proprio medico. Un medico può aiutare un paziente a costruire un piano di trattamento in cui limitare l'assunzione di glutine è solo uno dei molti passi verso uno stile di vita più sano. Sebbene il glutine e il diabete possano essere una combinazione dannosa, è facilmente evitato grazie all'aiuto di un professionista.